Adesso posso fare un viaggio in Italia e prenotare un albergo, noleggiare una macchina, andare in un ristorante e mangiare una pasta. Ho imparato tantissime cose di forma veloce, semplice, efficace e naturale. Voglio vivere presto in Italia e grazie al suo metodo di insegnamento e io mi sento sicura di comunicare con gli italiani. Tutto questo mi sta aiutando a avvicinarmi a vivere l'Italia in modo naturale e obiettivo. È una didattica fantastica dove abbiamo voglia di imparare l'italiano. Anna ha tanto amore e tanta passione per insegnare che tutti imparano con lo stesso amore e la stessa passione, questa bellissima lingua che è italiano. Sono un cantante lirico, ho avuto l'opportunità di essere invitato a cantare in Italia e la sensazione di comunicare, cantare in italiano con i nativi è stata incredibile. Con il cuore pieno di gioia ti ringrazio Santa Paola. Senza di te queste sue sue non sarebbe possibile. Nel primo stante ho capito che l'esperienza che lei offriva con la lingua italiana era qualcosa che non avevo mai provato in cui si poteva imparare l'italiano naturalmente per vivere l'Italia pienamente, come lei usa dire. Noi abbiamo contatto con accenti diversi, persone che parlano in velocità diverse e impariamo l'italiano che è parlato in Italia, quello italiano che noi vediamo nei libri. Tre mesi prima non sarei mai riuscito a registrare un video come questo e anche gli italiani con cui io parlo mi hanno fatto dei complimenti dell'italiano che posso parlare adesso. Sono all'inizio, ma credo, con il metodo di Anna Paola, realizzarò presto il mio sogno di parlare e andare in Italia.